Oggi è il tavolo che noi facciamo regolarmente con tutte le associazioni dei balneari della Liguria per fare il punto della situazione anche alla luce delle linee guida che il Governo ha comunicato alle regioni sulle quali il Governo si vorrebbe basare per fare, io direi anche finalmente, una legge nazionale sulla questione Bolkestein e sulla questione del demanio marittimo. Queste linee non sono ancora state consegnate in maniera concreta, materiale, noi come assessori regionali al demanio, io, l'Emilia Romagna e l'Abruzzo, che siamo un po' i capofila, che gestiamo il rapporto con il Governo nazionale, le abbiamo avute informalmente a livello teorico dal Ministro Costa e adesso dovranno essere consegnate invece formalmente cartacee. Sono delle linee guida che cominciano a delineare una situazione che quantomeno il Governo vuol prendere in mano su una legge necessaria come quella delle spiagge e della Bolkestein. Noi però rimaniamo molto fermi sulla nostra posizione, noi vorremmo una legge molto chiara, molto semplice, che preveda il doppio binario, che preveda la proroga di 30 anni alle attuali concessioni demaniali per i balneari. Vorremmo quindi un'azione molto forte del Governo nei confronti dell'Europa. Al momento siamo parzialmente soddisfatti perché vediamo che da quando si è insediato il Ministro Costa questo tema è ritornato anche grazie, credo, all'azione dei balneari e della Regione Liguria e di altre Regioni italiane e diventato più centrale nell'agenda del Governo. Però adesso noi vogliamo degli atti più concreti, vogliamo che dalle parole si passi i fatti. Siamo in attesa di una sentenza che doveva arrivare a maggio, ma pare che arrivi in autunno. Il Governo dice che vuole attendere la sentenza prima di fare la legge nazionale. Io dico che forse sarebbe meglio non attendere questa sentenza che potrebbe essere molto negativa per le imprese balneari italiane, ma se mai intervenire noi come Governo nazionale, quindi il Governo nazionale, con una legge. Oggi facciamo il punto che Balneari sarà anche l'occasione per confrontarci su alcuni aspetti che riguardano alcune leggi regionali che noi abbiamo modificato per rendere più facile il lavoro delle nostre imprese sul territorio, sul demanio marittimo e quindi per lavorare meglio all'inizio della stagione, ma soprattutto l'oggetto sarà la Bolkestein e noi rimaniamo su questa posizione e attendiamo il confronto col Governo. Doveva esserci già mercoledì prossimo una riunione, pochi minuti fa ho appreso che è stata rinviata per impegni del Ministro, attendiamo quindi questa convocazione perché riteniamo che il tema sia assolutamente di primaria importanza. Perché al momento sul discorso proroga c'è molta incertezza da parte del Governo, loro capiscono e condividono con noi che invece siamo molto più netti perché noi parliamo di una proroga di 30 anni, loro capiscono che c'è necessità di un tempo intermedio chiamiamolo, però su questo sono poco ancora chiari. Noi vogliamo e chiediamo al Governo più chiarezza, ma secondo la nostra posizione è molto semplice dire 30 anni come hanno fatto anche altri paesi europei, mi riferisco alla Spagna, mi riferisco al Portogallo, quindi andare anche nell'ottica di quelle che sono già le azioni, gli atti che hanno fatto in maniera molto concreta e direi anche molto veloce gli altri paesi europei. Mi dispiace che come Italia arriviamo sempre dopo, potremmo essere noi una volta tanti ad essere quelli che arrivano per primi.